Noi abbiamo avuto una cooperazione giudiziaria nei settori penali e civili che è aumentata e oserei dire è stata molto apprezzata. Tra queste vorrei citare una cosa che è sfuggita a molti, che in particolare nell'ultimo incontro che abbiamo avuto ad Atlanta in Georgia, a margine della Convenzione di Merida e della lotta anticorruzione, l'Italia ha proposto una risoluzione che è stata accettata in cui il criterio di percezione della corruzione è stato completamente mutato. Il nostro Paese figurava e figura tra gli ultimi posti di affidabilità per quanto riguarda la corruzione, ma in base a cosa? In base a un dato sbagliato, perché abbiamo fatto ad Atlanta, abbiamo posto questo problema che è stato accolto e nel dibattito mediatico si è fatto spazio a quelli che sono gli indici di misurazione basati su una miscela di parametri soggettivi e variabili, quali soggetti e analisi di esperti di varie discipline, all'esito delle quali si sono stilate graduatorie sulla percezione della corruzione, che si sono rivelati completamente sbagliati. E noi abbiamo spiegato che i criteri di corruzione percepita non corrispondono affatto a quelli della corruzione reale. E il nostro modo di autoflagellarci continuamente, come se fossimo un popolo di corrotti, è un altro di quei difetti sui quali noi dobbiamo incidere per riacquistare credibilità internazionale. E avendo spiegato che i criteri della corruzione cosiddetta percepita non corrispondono affatto a quelli della corruzione reale, abbiamo convenuto che i parametri per valutare questo tipo di corruzione devono fondarsi su dati oggettivi, su dati standard e su dati condivisi. E non su impressioni, su fatti e su articoli dei giornali. Ecco, questa risoluzione è stata accolta, l'Italia è risalita e risalirà nella graduatoria dei paesi affidabili, anche a livello internazionale, proprio perché per la prima volta abbiamo avuto il coraggio di dire signori guardate che questi parametri erano e sono completamente sbagliati. Grazie. Grazie.